A luogo questa mattina a Mazzara del Vallo il congresso straordinario del Partito Democratico, oggi si eleggerà il nuovo segretario e i componenti del direttivo. Accanto a me l'assessore regionale della sanità Baldo Gucciardi, cosa ne pensa del congresso di oggi, come andrà a finire secondo lei? Ritorniamo alla politica, la politica che non si autoreferenzia ma la politica che si scommette, che si apre ai cittadini e che propone il proprio modello di società ai cittadini che è l'unico modo per riavvicinare le istituzioni e la politica al corpo sociale, ai cittadini disillusi e disincantati rispetto alle delusioni che hanno avuto purtroppo in questi anni. Quindi le proposte, i progetti, attraverso il congresso di oggi il Partito Democratico di Mazzara ha realizzato davvero un obiettivo importante. Mazzara del Vallo ormai si parla ad anni dell'ospedale a Belaiello, quindi quali sono le tempistiche per la fine dei lavori? L'ospedale è pronto, fra qualche settimana avremo davvero questo gioiello della sanità, non soltanto della provincia di Trapani ma dell'intera regione. L'azienda sanitaria provinciale ha realizzato davvero un miracolo, facendo sì che si finissero i lavori in tempi davvero rapidi, senza ritardi, potendo rendicontare ogni centesimo all'Unione Europea, attraverso meccanismi di buona amministrazione che io ci tengo qui oggi a sottolineare e a precisare. È un ospedale importante che riempiremo di importantissime professionalità, che arricchirà la rete ospedaliera della provincia di Trapani. Ci tengo a dire che gli ospedali non sono delle comunità dove sorgono, gli ospedali sono dell'intero territorio, di un intero territorio che attraverso strutture complementari tra di loro possa offrire un'offerta sanitaria adeguata all'esigenza, alle istanze e ai diritti che hanno i cittadini nella nostra regione e in questa provincia. L'ospedale di Mazzara sarà un fiore all'occhiello, ci sarà questo importantissimo risultato di una radioterapia finalmente funzionante nella provincia di Trapani, si elimineranno questi viaggi di sofferenza di pazienti neoplastici, malati di tumore, che per troppi anni, per troppi lunghi anni sono stati costretti a recarsi fuori dalla nostra provincia, facendo distanze incredibili, aggiungendo sofferenze a sofferenze. Ecco, questa è la buona sanità per la quale io mi batto e Mazzara del Vallo sarà uno dei punti avanzati della buona sanità della nostra regione. Radioterapia complessa o semplice, Mazzara o Trapani? La domanda è che si stanno ponendo tutti in provincia. Molti si chiedono perché fare la radioterapia complessa a Trapani, dove ancora non c'è nulla, quando invece a Mazzara già c'è un bunker. Qual è stata la motivazione? Questo intanto è la decisione dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, su cui l'assessorato non può intervenire, ma in ogni caso mi sembra stucchevole davvero questo ragionamento. Lo dico con grande chiarezza. In questa nostra sanità da troppi anni non si parla dei pazienti e degli ammalati, si parla semplicemente delle strutture e di chi si deve posizionare all'interno delle strutture. Questo non è un problema, sarà risolto e sarà risolto nel migliore dei modi. Del resto, semplice o complessa, a Trapani o a Mazzara, quello che conta è che ci sia una radioterapia funzionante con il fisico nucleare che si occupi dell'acceleratore lineare. Quindi bisogna essere anche molto addentro e competente rispetto ai problemi. Per cui ci sono stati troppi scontri fra Trapani e Mazzara, quando a suo tempo è stato scelto Mazzara come luogo dove far sorgere la radioterapia e non Trapani. Lo sapete bene, c'è stato uno scontro che io allora da parlamentare ho cercato di sedare, di far comprendere che la provincia è una, anzi il territorio va oltre la provincia di Trapani. Ci sono tratti della provincia di Agrigento e di Palermo che possono servirsi benissimo, dei nostri servizi sanitari e spesso lo fanno. Per cui alimentare questo modello di campanile io non ci sto, altrimenti perdiamo quello che è il senso di questa straordinaria struttura ospedaliera che è quello di Mazzara, dove verranno qui a curarsi di neoplasie, per esempio attraverso la radioterapia, tantissimi ammalati di cancro nella nostra provincia ed oltre. I problemi tecnici lasciamoli ai tecnici e non trasformiamo, come dire, un'occasione straordinaria, un ospedale meraviglioso, un'apparecchiatura come la radioterapia, è tutto quello che metteremo dentro quell'ospedale in un'occasione di scontro di nuovo fra Trapani e Marsala. Io non ci sto e quindi il problema lo risolverà, lo risolverà l'azienda sanitaria provinciale di Trapani, lo risolverà l'assessore regionale della salute e io pregherei le forze politiche, come la stampa, di occuparsi più dei vantaggi che avranno gli ammalati piuttosto che dei vantaggi che avranno gli operatori. Gli operatori hanno fatto un grande lavoro, continuano a fare un grande lavoro, io li ringrazio, però la sanità riparte dagli ammalati. Gli ospedali non si costruiscono per chi ci lavora, gli ospedali si costruiscono soprattutto per chi ha bisogno di essere curato negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Un altro tema caldo momentaneamente sono le unioni civili, qual è secondo lei la posizione della regione siciliana? La regione siciliana ha competenze limitate su questo, abbiamo fatto una legge che deve essere ancora approvata sull'unione di fatto. Io lo dico e lo liquido con una battuta che un po' riassume quella che è la mia educazione, la mia cultura rispetto a questi temi, rispetto ai quali comunque la libertà di coscienza credo che sia fondamentale. Io credo che ci vogliano leggi che riconoscano i diritti civili di chi comunque, a prescindere dalla propria tendenza sessuale, sia abbia deciso di vivere insieme, di condividere tratte della propria vita. Il resto possiamo discuterne e credo che anche lì ci sono molte polemiche stucchevoli e quando si perde tempo si perde tempo per il riconoscimento dei diritti civili a chi ne ha il diritto, come chi decide di vivere insieme. Non importa se è uomo o donna, se è due donne o due uomini, o un uomo o una donna che decidono di vivere insieme, la libertà nel riconoscimento dei diritti civili credo che sia la battaglia del Partito Democratico. Come sta andando questo congresso oggi qui a Mazzara del Vallo? E' molto intenso anche l'intervento dell'assessore alla sanità. Sì, un bel congresso, ma me l'aspettavo perché Mazzara è un circolo vivo, fatto di contenuti, di donne e uomini che si vogliono impegnare con passione. E' impreziosito dall'intervento dell'onorevole Gucciardi che da assessore alla sanità ha fatto anche il punto su quella che è la situazione sanitaria in provincia e in particolar modo a Mazzara del Vallo. Credo che questo sia un appuntamento importante. Abbiamo due candidati alla platea congressuale come l'Avvocato Dado e Teresa Diadema che si stanno confrontando sui contenuti con l'obiettivo unitario poi di rilanciare il partito già da domani. La sfida è impegnativa, è una città importante come Mazzara ma il Partito Democratico c'è e ci vuole essere anche per il futuro di questa città. Accanto a me l'Avvocato Dado che era in contraposizione a Teresa Diadema per la corsa appunto alla segreteria del PD mazzarese. Come definirebbe questa giornata? Una bella giornata e un successo per il partito perché finalmente si celebra un congresso fatto non di contrapposizione ma di confronto e anche una bella giornata per la comunità insomma perché è la testimonianza di come uno strumento democratico applicato al Partito Democratico che è uno dei pochi partiti che ancora riesce a utilizzare e applicare questi strumenti sia alla fine uno strumento che ha un alto valore di democrazia non soltanto per il partito ma in qualche modo per la comunità perché è testimonianza di un partito vivace con tante idee, con una pluralità di confronto su emozioni, visioni politiche future. Vince con ampio margine Teresa Diadema, questa sera abbiamo appunto decretato il nuovo segretario comunale del PD mazzarese. Teresa Diadema una grande vittoria, una giornata intensa. Sì è stata una giornata molto lunga, una giornata fatta veramente di un bel congresso, è uscito fuori un bel congresso, un congresso vero, reale e partecipato. C'è stato un bel dibattito e quando ci si confronta anche con idee diverse, con posizioni diverse io penso che ci si arricchisce. Il confronto e le diversità rappresentano il sale della democrazia. Da oggi puntiamo a rafforzare questo Partito Democratico tentando di fare sintesi unità il più possibile perché un partito che è unito è un partito più forte e siccome noi vogliamo puntare a costruire una vera e reale alternativa di governo, da domani inizieremo a lavorare per questo e inizieremo soprattutto a concentrarci su quelli che sono tutti i problemi dei cittadini, del nostro territorio, per porre l'attenzione della nostra deputazione e iniziare a costruire un programma per porre fine, insoddisfazioni che rendono i nostri cittadini ogni giorno più tristi. Qual è quindi il primo passo? Ma non ce n'è uno che ha la priorità sull'altra. Sappiamo bene che ci accingiamo all'apertura del nostro ospedale e quindi ci concentreremo molto su questo, però tutto quello che accade nella nostra città, tutte quelle che sono le problematiche dei nostri cittadini verranno costantemente seguite e costantemente dibattute. Abbiamo immaginato una segreteria aperta con una sede dove si farà il dibattito, dove si discuteranno le scelte del Partito Democratico e dove si creerà proprio il motore dell'azione del nostro partito. Abbiamo immaginato un partito aperto anche che riesce a interfacciarsi con i simpatizzanti, gli elettori e perché no anche con i curiosi, anche accedendo tramite i siti che andremo a istituire da qui a pochi giorni. Lei attualmente è consigliere comunale qui a Mazzara del Vallo, come proseguirà questo suo percorso? Lo proseguirò così come l'ho sempre fatto, in prima linea, non so traendomi mai al dibattito, non sono mai stata in trincea, chi mi ha seguito, chi ha seguito il mio percorso politico sa che sono una battagliera. Oggi mi sento ancora più rafforzata, per il semplice fatto che in prima persona mi sono candidata io, però dietro c'è una squadra fatta non di numeri, non di nomi ma di idee.